Riportare il Cuneo ai livelli che merita. E' questo l'obiettivo più volte ripetuto del nuovo colpo di mercato della Cicuneo 1905 Olmo, il difensore Mirco Romagnoli. Senese, classe 98, il giocatore vanta esperienze in serie C e serie D. E' stato presentato dalla società presso l'autotrasporti Trevalli di Borgo San Dalmazzo. La piazza Cuneo è una città, ho visto la voglia di riscatto rispetto all'anno scorso e io ho tanta voglia di riscatto perché la passata stagione, avendo giocato poco e venendo da un legamento rociato-rotto, ho tanta voglia di rimettermi in forma, di riprendermi e poi di riportare il Cuneo dove merita. Io ho incontrato la prima volta il Cuneo quando ero in Lega Pro, io ero a Siena, però sì, mi dispiace da una parte rivedere il Cuneo perché ho tutto rispetto, eccellenza, ma merita altro. Merita altro e, come ho detto prima, con il lavoro, tanto lavoro, riusciremo a riportare il Cuneo dove merita. La volontà di questa società è quella di cercare di far bene, di cercare di fare magari ancora meglio di quello che abbiamo fatto lo scorso anno, ripartendo da un riconfermo di un gruppo consolidato, che sono praticamente tutti i ragazzi che erano presenti l'anno scorso, perché comunque è un gruppo forte, un gruppo che l'anno scorso ha dimostrato di poter essere assolutamente competitivo e di andare a aggiungere qualche tassello nei reparti che ritenevamo importanti un po' ad aiutare. L'abbiamo fatto due settimane fa con Del Piano, lo facciamo oggi con Romagnoli, un ragazzo che arriva da un passato importante del professionismo perché ha soli 25 anni, ha già ben disputato 5 campionati in Serie C, quindi sicuramente ha una forte esperienza, ha tecnica, ha qualità, ha qualità anche caratteriali, credo che si inserirà soprattutto al meglio all'interno del nostro gruppo, sempre in segno della coesione e della collaborazione tra le parti, quindi mi auguro veramente che ci siano tutti i presupposti per vivere una grande stagione. Lo conoscevo, sapevo benissimo che era un giocatore per noi importante, penso che già due o tre anni fa ci eravamo sentiti, però poi giustamente ho preferito ancora rimanere nelle categorie che contano. Poi quest'anno ho avuto quello infortunio, si è ripreso bene, si è allenato già da noi con il nostro preparatore e per me era importante, a prescindere dal giocatore, che è un giocatore importante sotto l'aspetto agonissimo, ma è un ragazzo che ci porterà tante esperienze, soprattutto quello che a me interessa sugli allenamenti, nel senso che si andrà molto più forte perché i ragazzi seguiranno lui, quindi per noi era un punto di riferimento ed è importante aver inserito una pedina così. Tanto è un onore avere un giocatore che comunque è stato nei professionisti e averlo qua con noi, avere la dirigenza qua con noi, quindi ci fa molto piacere. Noi siamo stati tra i primi a credere in questo progetto, coinvolti da Mauro e un po' da tutta la dirigenza, ma soprattutto per quello che rappresenta per Cuneo, comunque erano anni che mancava una squadra di calcio importante, mancava un progetto più che una squadra, la squadra c'è stata in passato ma non c'era un progetto, il progetto invece di questa nuova società è molto importante sia a livello giovanile sia a livello di prima squadra, quindi per noi è molto molto importante potergli dare una mano.